Un'indagine partita da un assegno di 100.000 euro intascato dopo la presentazione di documenti fasulli, culminata poi con otto persone indagate per truffa e riciclaggio. Sgominata in provincia di Napoli dagli agenti della Questura, una banda specializzata in truffa, riciclaggio, sostituzione di persona e fabbricazione di documenti di identificazione fasulli. Otto le persone destinatari di ordinanza. Le indagini sono partite nell'aprile del 2018, quando uno degli indagati fu sorpreso in un ufficio postale campano mentre tentava di incassare un assegno di 100.000 euro con documenti falsi. I successivi accertamenti hanno svelato l'esistenza di una banda attiva soprattutto nell'area nolana. Il sodalizio era specializzato in sottrazione, clonazione, falsificazione e successivo incasso di assegni bancari e circolari per un ammontare pari a circa 7 milioni di euro. Quattro indagati sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari, due alla misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza e uno alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Per un direttore di banca invece starà disposta per la durata di un anno il divieto di svolgere attività professionali nel settore bancario e dell'intermediazione immobiliare e di ricoprire uffici direttivi. Eseguiti inoltre sequestri preventivi di somme di denaro e di beni per l'ammontare di 750 mila euro. Nell'ambito della medesima operazione risultano indagate altre 15 persone.